che per quanto mi riguarda non ci sia tutta quella differenza lì fra noi e la Juventus. Io non lo vedo nella partita della Juventus perché dentro della partita lì ci possiamo giocare alla pari. Io quella che è la differenza la trovo di più in quelle vittorie mancate contro il Parma, contro l'Atalanta, contro le squadre dove bisogna mantenere un livello di condizione. Al di là di che tu puoi perdere l'Atalanta ma non va perso in quella maniera lì. Ci puoi spiegare cosa è successo con i Cardi se qualcuno ha esagerato a ricostruire quello che è accaduto ieri? Non vedo dove sia il problema perché c'era la delegazione della Juventus, c'era i dirigenti e un calciatore dell'Inter, c'erano diversi personaggi. Per cui non vedo dove stia il problema. Non ha fatto niente di strano, è come andare a cena da un'altra parte, tu prendi, tu facci e tu ritorni. Se avessi fatto qualcosa di particolare, con la sua moglie a vedere uno spettacolo e si comporta regolarmente. L'unico errore che noi potremmo fare è quello di andare a creare attenzione per il risultato del Barcellona. Noi abbiamo la nostra partita da dover vincere, noi dobbiamo pensare a vincere la nostra partita, non a quello che farà il Barcellona. Funziona così, che Vessino gli abbiamo fatto fare un esame che probabilmente non sarà disponibile. Nainggolan ha fatto un esame all'inizio della settimana che ha bisogno di un periodo di giorni, che riguardano dei giorni, perché se no rischia di tornare indietro a quello che è il suo problema. Noi abbiamo ecco.